buongiorno e bentornati alla nuova video intervista di fortune italia health oggi parliamo di shopping nel settore della salute in particolare dell'operazione che è stata annunciata alcuni giorni fa e che vede come protagonista l'azienda che fornisce soluzioni tecnologiche per i player del mondo sanitario compu group medical meglio nota come cgm e farm up che invece un'azienda specializzata nella consegna di farmaci a domicilio secondo i termini dell'accordo cgm ha acquisito il 60 per cento del capitale di 4k che è la società a cui fa capo farm up e approfondiamo oggi poi gli aspetti di questo di questo accordo insieme ad alessandro avezza che area vice president della divisione farmacie di cgm per l'italia e country manager sempre per l'italia di cgm buongiorno e grazie di essere con noi buongiorno grazie a lei allora dottor avezza partendo dall'inizio ci chiede ci chiediamo cosa ha portato un'azienda come cgm a interessarsi all'acquisizione di una realtà come farm up che di fatto ha un business molto differente rispetto al vostro operiamo entrambi nel settore dei servizi per il mondo degli operatori sanitari diciamo da due punti di vista un po diversi proprio per questo complementari e che sono un po poi la base strategica dell'operazione straordinaria di m&a cgm chiaramente un player della sanità per gli operatori professionali mentre invece farm up che è nata come startup e poi ha saputo imporsi come leader di mercato opera nel settore della consegna del farmaco a domicilio e dei servizi digitali per le farmacie italiane e straniere da qua diciamo è chiaro l'obiettivo strategico di combinare le due i due valori i due punti di forza delle due aziende sfruttare tutte le sinergie potenzialmente aiutare farm up nel suo percorso di espansione sia nazionale ma soprattutto internazionale noi siamo nel cosiddetto passion journey e farm up per cgm rappresenta l'ultimo video di questo percorso quello che porta chiaramente il farmaco a casa del paziente o rende la farmacia più evidente più visibile ad esempio sui social media ecco proprio relativamente al dealer ci può dare qualche informazione per apprezzare quello che è un po il sapore di questa operazione anche dal punto di vista diciamo dei numeri sì allora come dicevamo farm up è nata come startup grazie all'ingegno e alla poi all'esecution dei due soci fondatori ma oggi non diciamo non è più una startup in quanto tale ha chiuso il 2021 con 3 milioni e 7 di ricavi e con una marginalità comunque molto interessante di circa il 30 per cento l'operazione è avvenuta ai multipli di mercato e confidiamo che grazie alle sinergie che saranno attivate nei prossimi mesi anni questo porti sicuramente valore all'azienda e chiaramente anche ai soci fondatori ecco passando invece eh gli aspetti più strategici di questa fusione ehm comprendo naturalmente da un lato il know how e ma anche la vision delle persone che poi compongono il board direttivo dell'azienda eh che ha acquisito e di quella che è stata acquisita eh i founder di farm up che sono eh Giuseppe Mineo e Giulio Leonardo ehm continueranno a ricoprire il ruolo di CEO e di managing director di farm up ci chiedevamo come eh nuovo socio di maggioranza se CGM ha intenzione di eh apportare insomma un in qualche modo intervenire nella nel board di farm up. I soci fondatori come lei già anticipato rimangono nella compagine societaria rimangono assolutamente nel board dell'azienda con ruolo di CEO e managing director quindi l'operazione ha voluto mettere insieme una realtà creata dal nulla praticamente dal da Leonardo e Emineo e ehm sostanzialmente eh aiutarli accompagnarli nel percorso di crescita ed espansione. CGM chiaramente ha delle componenti nel consiglio di amministrazione io sono il presidente del consiglio di amministrazione ma l'idea è di capitalizzare e valorizzare le competenze e il percorso che è già stato tracciato dai soci fondatori quindi assolutamente continuità anzi espansione ancora di più se possibile. Ecco nella nostra stampa che è stata diffusa eh dopo la insomma dopo la l'acquisizione eh cito si parla di collaborazione per potenziare l'offerta di eh della farm on delivery sul territorio nazionale consentendo a tutte le farmacie italiane di usufruire un servizio di consegna a domicilio potenziato dalle soluzioni software proprietari del gruppo. Allora volevamo capire eh in che modo il know-how di CGM può fungere in qualche modo da booster usiamo un termine che abbiamo imparato usare insomma grazie ai vaccini eh dell'attività di eh di farm up. Sì allora è evidente che i comportamenti dei consumatori, dei cittadini sono stati modificati in questi ultimi anni di pandemia quindi la consegna a domicilio è diventato uno dei modi con cui il cittadino consumatore paziente ehm si come dire si aspetta di poter avere tra le sue scelte eh farm up opera in questo ambito al fianco della farmacia quindi diciamo aggiungendo un canale diretto di comunicazione tra la farmacia e il suo consumatore. Chiaramente questo deve avvenire con il supporto di piattaforme tecnologiche e qua entra in campo eh l'alleanza con CGM quindi la lo diciamo l'obiettivo è quello di favorire questa integrazione fra le piattaforme tecnologiche e il sistema gestionale di farmacia che comunque è il cuore pulsante eh della farmacia questo per rendere sempre più facile e agevole questo percorso. Eh l'obiettivo per la farmacia è sicuramente quello di fedelizzare i clienti e i clienti devono poter essere certi che o recandosi in farmacia o chiedendo la consegna del farmaco a casa o magari prenotando il farmaco andandolo a ritirare in farmacia convivono in un unico ecosistema. Ecco l'integrazione tra farm up e CGM punta questo obiettivo che deve essere il più smooth trasparente possibile lineare possibile per la farmacia. Ecco in chiusura una domanda eh di carattere più generale eh sappiamo che il CGM eh insomma opera con con partner sia in ambito pubblico che in ambito privato nel settore della salute. Eh cosa ne pensate della eh che aspettative avete rispetto al PNRR quindi le mission 5 e 6 eh che si andranno adesso ad attuare anche grazie ai fondi del Next Generation EU. Questa è una grandissima opportunità anzi mi verrebbe da dire da cittadino più che da general manager un dovere eh per tutte le aziende di cogliere a pieno le opportunità date dal PNRR. Noi siamo già attivi come CGM infatti alcune componenti del PNRR in particolare quelle che riguardano l'agenzia per la coesione territoriale quindi il fatto di rendere eh più vicine più attrezzate le aree più periferiche del paese eh credo si sappia è stato istituito un bando per le farmacie rurali sussidiate cioè quelle che stanno nei comuni al di sotto dei 3.000 abitanti per poterle dotare di strumenti tecnologici tecnologici di eh applicazioni per la telemedicina di piattaforme per la presa in carico del paziente. Questo noi come CGM siamo di nuovo al fianco delle farmacie siamo l'unica azienda in Italia che è sostanzialmente in grado di proporre tutte le offerte su tutti gli ambiti di applicazione di questa porzione del PNRR che appunto riguarda le aree più sfortunate diciamo così o a minore densità di popolazione del paese. Il il bando peraltro è stato recentemente steso al 30 di settembre e noi confidiamo di poter aiutare le farmacie veramente per poter cogliere questa opportunità che aiuta loro ma soprattutto aiuta i cittadini di queste eh frazioni di questi comuni a bassa densità. Il grosso diciamo che questo è solo un'anteprima è un piccolo pezzettino di quello che poi arriverà perché il grosso degli interventi legati al PNRR in particolare guardanti chiaramente le sanità le case di comunità deve arrivare. Noi qua come CGM confidiamo di poter svolgere un ruolo apportando il contributo tecnologico di competenza eh di settore. In questo momento forse si è un attimino concentrati più sulla parte diciamo infrastrutturale come giusto che sia perché chiaramente le case di comunità prima vanno costruite vanno connesse poi arriverà un momento in cui si parlerà di piattaforme di applicazioni e noi speriamo e confidiamo di poter essere di supporto agli interlocutori. Benissimo allora ringraziamo il dottore Avezza di essere stato con noi e alla prossima intervista. Grazie, grazie a lei, arrivederci.